Scoprire le meraviglie della Sicilia e rafforzare il sistema produttivo regionale grazie a Si Sicili, il progetto che promuove il turismo e sostiene gli operatori del settore colpito dalla crisi provocata dalla pandemia. Con Si Sicili la regione offre voucher e sconti ai viaggiatori che scelgono l'isola. Regione siciliana e Unione Europea, obiettivo raggiunto. Vai su euroinfosicilia.it, prodotto cofinanziato dall'Unione Europea.